Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Calibre Dance, una scuola di Bali Caribice e non solo di Ravenna. Proseguiamo il nostro studio relativo alla salsa portoricana applicando in coppia quello che abbiamo imparato distintamente. Passo la parola a Loretta. Sì, Claudio voleva dire che entriamo un pochino nel vivo del ballo. Oggi impareremo, sfruttando la base check, sfruttando la vuelta destra sia dell'uomo che della donna, andremo a vedere una prima figura chiamata combinata semplice. Quindi da posizione di check, l'uomo guiderà dapprima una vuelta destra alla donna, quindi andiamo a farlo via, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Al 7 mi raccomando uomini, giù immediatamente il vostro braccio sinistro perché finalmente andrete a girare anche voi, eseguire la vostra vuelta destra. Quindi sull'uno gira avanti, 1, 2, 3. Se avete notato Claudio ha fatto anche un cambio di mano mentre eseguiva i suoi passi di vuelta destra. 5, 6 e 7. Adesso andremo a vedere anche con le braccia che cosa ha fatto. quindi prima ancora la donna, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. L'uomo gira, 1, al tempo 2 il braccio dietro la schiena fa un cambio mano, continua i suoi passi di vuelta, 3, facendo un altro cambio in mano e finiamo con il nostro basico. Andiamo ancora a vederla, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Uomo giù, 1, 2, 3 e 5, 6, 7. Quindi se avete notato l'uomo fa bensì due cambi in mano, al tempo 2 e al tempo 5 quando è frontale la donna. Vediamo l'esecuzione di questa figura dall'altra parte, quindi faremo un cambio di posto e da di qui una base check, 1, 2, 3, 5, 6, 7, combinata 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mi raccomando provatela, provatela e riprovatela anche voi. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao a tutti e alla prossima puntata.